Non ho chiuso occhio, non sono riuscito a dormire. Hai provato a contare le pecore? Sì, ma ne manca sempre una. Che nervoso. Io quando sono nervoso divento ripetitivo. Tu? Io quando sono nervoso non riesco a dormire. Hai provato a contare le pecore? Sì, ma ne manca sempre una. Che nervoso. Io quando sono nervoso divento ripetitivo. Io quando sono nervoso non riesco a dormire. Hai provato a contare le pecore? Però ne manca sempre una. Che nervoso. io quando sono nervoso divento ripetitivo e quando sono nervoso non riesco a dormire hai provato a contare le pelle? non so che cosa fare che è successo? che è successo? quando dormo parlo quando dormi parli? e vabbè è mica un problema che c'è di strano scusa non capisco in ufficio do fastidio hai capito? hai provato a contare le pecore? si ma ne manca sempre una che nervoso io quando sono nervoso divento ripetitivo io quando sono nervoso non riesco a dormire hai provato a contare le pecore? però ne manca sempre una che nervoso tutto bene la visita l'abbiamo fatta è tutto a posto altro da dirmi? si dottore un'altra cosa vi volevo dire e mi dica io fumo assai e mi volevo togliere questo capro di vizio di fumare si può togliere il vizio del fumo? si dottore guardi facciamo così giusto basta con le sigarette ha provato con delle caramelle? dottore ho provato come non ho provato i problemi che non si accendono si trova a suo agio qui? abbastanza grazie ma lei è la prima volta che viene? si facciamo la nuova scheda allora prima visita ginecologica età? 21 giovanissima 21 anni professione professione eh professione io lavoro di notte io devo scrivere è proprio come professione quindi eh si lo scriviamo eh che devo fare? siamo prostitute senta lei durante il ciclo ha perdite? no dottore non ne parliamo fino a 2-3 milioni alla volta io quando sono nervoso divento ripetitivo io quando sono nervoso non riesco a dormire hai provato a contare le pecore? si ma ne manca sempre uno che nervoso io quando sono nervoso io non riesco a dormire hai provato a contare le pecore? si ma ne manca sempre uno che nervoso un chiromante per 30.000 lire vi dirò il futuro io sono un chiromante per 30.000 lire vi dico il futuro futuro io sono un chiromante per 30.000 lire vi dirò il futuro com'è? io sono un chiromante per 30.000 lire vi dico il futuro io sono un chiromante mi dici il futuro? 30.000 lire e vi dico il futuro io sarò un chiromante tu sarai un chiromante egli sarà un chiromante noi saremo chiromanti voi sarete chiromanti essi saranno mo ti dico il passato mo no io sono un chiromante se un piromante gli sistemati belop fosse un chiromante qui sottumbre